Messaggio del 4 maggio 2020 a Ivan Cari figli, questo è il tempo di ringraziamento. Oggi da voi cerco l'amore. Non cercate errori e sbagli negli altri, non giudicateli. Cerco da voi che amiate, che diffondiate la verità, poiché la verità è eterna, è immutabile e sempre attuale. Portate la luce di mio figlio, così in tal modo distruggerete le tenebre che sempre di più vogliono afferrarvi e portarvi lontano da mio figlio Gesù. Non abbiate paura, io sono con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.